E ovviamente agli impeditori, mi sposto e guadagno il centro del palco perché siamo arrivati ad una nuova storia, una nuova eccellenza italiana da premiare. Chi è? Qual è la loro storia? Ascoltiamola in questo filmato. La Sicilia è una regione vitivinicola davvero unica. Intanto noi dobbiamo considerarla un continente vitivinicolo perché da est a ovest, dalle zone di natura vulcanica all'Etna a 3.300 metri, l'interazione tra microclima, suoli, vitigni e le scelte dell'uomo che ovviamente cercano di interpretare e di far dare al meglio i singoli territori. Donna Fugata ha due caratteristiche molto importanti che sono la capacità innovativa e la creatività. Devo dire che l'innovatore per eccellenza era mio padre e oggi sicuramente mio fratello. Tecnologia al servizio della qualità. Mia madre è un po' la regina della creatività, se vogliamo. È una donna che ha una sensibilità artistica incredibile e lei ha portato il concetto di etichetta d'autore nella nostra azienda. Oggi Donna Fugata ha una collezione di etichette d'autore molto bella, se posso dirlo, che raccontano con i colori. La bellezza della Sicilia e dei nostri vini. Il vino è una mia grande passione. È una grande passione. Ovviamente sono nata nel vino e quindi vivo per il vino. Questa passione per il vino si accompagna ormai da tanti anni alla passione per la musica. La musica e il vino hanno dei linguaggi universali, possono comunicare sensazioni diverse, fanno viaggiare con la fantasia, io dico. Nel Music & Wine noi cerchiamo di abbinare ad ogni vino un brano che sottolinea le sensazioni della degustazione. Buona degustazione e buon ascolto. E dunque avete sentito la storia in questo filmato, io do il benvenuto a Jose Rallo. Grazie per essere qui con noi, prego conquisti pure il centro dell'aula, raggiunto dal Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Leggo subito la motivazione alla famiglia Rallo, eccellenza italiana, per la capacità di coniugare una produzione vitivinicola tradizionale di grande pregio con una visione industriale moderna e competitiva che ha cambiato l'immagine del vino siciliano nel mondo. Per aver saputo dare voce nell'ambito di una storia tutta familiare al ruolo dell'imprenditoria femminile come volano di percorsi aziendali integrati alla cultura e alla promozione del territorio. A lei il premio. Immortaliamo anche questo bellissimo momento. Doveroso e a questo punto è immancabile e necessario chiederle una parola, commento insomma di questo premio. Allora la parola, Jose Rallo? Una parola o una canzone? Cosa preferite? Se vuole cantare, se vuole cantare, qua abbiamo visto, abbiamo tutti gli strumenti, siamo prontissimi. No, 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 voglio dire che sono davvero felice di essere qui, ovviamente rappresento tutta la mia famiglia. Oggi mio padre non c'è più, dedicherei sicuramente a lui questo premio. E anche l'applauso dell'Aula del Senato, di tutti gli imprenditori, di associazioni di categorie, i presidenti e tutti. Però ho una mamma favolosa che a 80 anni viene ancora tutti i giorni in cantina e ha sempre qualcosa da fare. Un'etichetta nuova, una macchina agricola da comprendere o da acquistare. Ho un fratello fantastico che lavora molto più di me e mi dà la possibilità di prendermi qualche giorno di vacanza che lui non si concede. Questa è anche azienda familiare, no? E il venirsi incontro in qualche maniera. Io ho una famiglia splendida, sono la quinta generazione, ma ho la fortuna di avere due figli di 26 e 23 anni, che rappresentano sicuramente una sesta generazione in itinere. Sono in formazione, stanno facendo le loro esperienze fuori dall'azienda familiare, perché è così che hanno voluto. E quindi siamo molto molto contenti di essere parte di questa squadra di imprenditori eccellenti, di poter rappresentare una Sicilia, un'isola, un sud che vuole crescere, che si vuole distinguere, che ce la sa fare a fare sia qualità che export che eccellenza. Siamo qui per questo, per ringraziarvi di averci dato quest'ulteriore forza, quest'ulteriore incoraggiamento ad andare avanti in un momento sicuramente impegnativo. Grazie assolutamente anche per questo. E secondo lei qual è stata la ricetta che vi ha consentito di aggiungere questi risultati costanti negli anni? Oltre ovviamente all'aspetto familiare che abbiamo capito oggi, è davvero fondamentale. Sì, abbiamo detto tradizione, legame con la terra, che sicuramente per il nostro settore è molto importante, innovazione continua. Mio padre portò la tecnologia del freddo in cantina dalla California, mia madre portò le etichette d'autore, quindi una rivoluzione nell'immagine. Allora le etichette erano bianche con delle cornicette dorate. Proprio le nostre etichette fecero scandalo. Ecco, io penso che anche il fatto che io abbia iniziato a cantare per i miei vini e che io canti i miei vini per il mondo, inizialmente ha fatto scandalo. Un pizzico di coraggio in più di rompere gli schemi. Questa è Donna Fugata, riuscire ad andare al di là degli schemi per trovare nuovi successi. E lei ce l'ha fatto capire bene oggi. Quindi grazie davvero, grazie. Si accomodi pure. Grazie ancora.